muovola bobkiller 3 nooo ma ma senti eh aia aia mi sta colpendo nooo via a me qualcuno come ti permetti come ti sei permessa nessuno mi batterà mai come ti sei permessa bobkiller sarà all'ospitale o sarà morto ho 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 scopriamo se è maschio o femmina è una femmina addio questa era l'ultima puntata tutti noi siamo i cittadini ciao gianna alessia e sharon ciao grazie grazie ciao 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 ciao